Le zanzare possono essere un fattore di trasmissione? Sa che l'ospite intermedio intanto si sta discutendo se potesse essere un cannerandaggio invece del pangolino di cui si era sempre parlato. Le zanzare è quest'estate? Guardi, questa non è una malattia trasmessa da vettori, quindi ad oggi non è confermato e che io sappia non ci sono coronavirus in natura. Ecco, adesso mi vado a studiare la settimana prossima. Se esiste in natura un coronavirus trasmesso da vettore, quindi le zanzare per questo non rappresentano un problema, ma rappresentano un problema per tante altre cose. Nell'acqua sono state trovate delle tracce di RNA che ovviamente se uno si soffia il naso e butta il fazzoletto nel water, questo va a finire nell'acqua e ovviamente si trovano tracce di RNA. Senta, professore Sarri.